Il film si apre con una conferenza tenuta dallo scrittore inglese James Miller in Toscana in relazione al saggio da lui scritto, copia conforme. La tesi di fondo è la seguente La copia è un'opera a valore perché ci conduce all'originale in questo modo certifica il suo valore. Nel corso del racconto si affermerà che una buona copia è meglio dell'originale anche perché la preoccupazione per una copia è inferiore rispetto a quella per l'originale ma siamo sicuri che sia così? James e Del, un'antiquaria che ha assistito alla conferenza approfondiranno il tema durante una breve gita in macchina nelle strade della Toscana. Per caso saranno scambiati per marito e moglie. Accettano il gioco Il loro matrimonio sarà la copia di un matrimonio originale ma a questo punto lo spettatore sarà disorientato nel seguire un gioco dagli esiti inaspettati. Copia Conforme è un film in cui la durata corrisponde alla durata della storia. Sono interessanti alcune osservazioni di Pigazzi di carattere tecnico a proposito del film che prendiamo. Copia Conforme ha una continuità di tempo, di spazio e di luogo totalmente costruita. Ad esempio, la strada dell'albergo, la stanza, scusate, dell'albergo dove i due protagonisti parlano alla fine del film è composta da cinque anni e ricostruiti in cinque posti diversi. Il bagno stava da una parte, afferma di Pigazzi l'externo da un'altra, l'escale da un'altra parte. La storia è 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 un'altra parte. Dal punto di vista scenografico, tutto era frammentato e poi ricomposto nel montaggio. Dichiarazione significativa in quanto si ribadisce come il montaggio sia il momento determinante che qualità conferma. La storia è un'altra parte. La storia è un'altra parte. Ricordando la stima di Pigazzi verso Chiaro Stani e la creducia che il direttore della fotografia deve avere nei confronti del regista rispetto sempre con una parola, auguriamo buona visione. Grazie. 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 Grazie.